Sara Delellis, allora il sogno si infrange qui al Palayamamai, però voi uscite con il plauso di questo pubblico. Sì, va bene, il nostro sogno era già stare qua, quindi non era una nostra squadra per vincere il campionato, e già che siamo qui abbiamo fatto una grande cosa. Poi certo, quando ti ritrovi in finale vuoi vincere a tutti i costi, ma è andata bene così. Cosa vi è mancato in questo atto finale? Ma cosa ci è mancato? Questo è difficile dirlo, alla fine Pesaro è nato per vincere il campionato, e hanno dimostrato di essere più forti ed è giusto così. Ecco, però Legnano si è ritagliata quella cosinomea di squadra terribile in grado di essere decisiva nei momenti importanti del campionato, un terzo posto che dimostra quanto voi siate state brave a gestire un gruppo di ragazze giovani tra l'altro. Sì, infatti abbiamo tenuto il terzo posto tutto l'anno, è stata una grande soddisfazione e io con pochi gruppi ho lavorato così bene. Credo che è stato un mix perfetto di, non so, di anzianità, no? Diciamo, mettiamola così. E sono contenta di aver lavorato con loro e con Andrea Pistola. Grazie, grazie. Grazie.